Iscriviti al canale! Un bel Pokémon blu, che è tutto ma sciolto! Electabazo Machoke mette il sole, pezzo di fango, bellissimo! L'abbiamo peitato! Dogu! E' l'ultimo! Primi punti! Punti, 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 punti! E' qua! Porta a casa, porta a casa, porta a casa! Tutto fa, tutto fa, tutto fa! Non faccio di certo full restore per fare la piatta! Punti comunque, eh! Nel mio piccolo tunnel roccioso! 15 punti! Eh! La torre! Difficile! No! Non posso farli! Non puoi rientrare nel tunnel! Non si può mai rientrare in un dungeon che hai più di una volta! Manca poco al 55! Salamella! Gattino! Surf e bannata! Sì! E anche quelli fuori dal tunnel! No, non puoi farli! Cioè! Cioè! Una volta che entri dentro la vandonia! Devi per forza andare a combattere il rivale! Punti! Punti! Dopo questo sono punti! O sbaglio! Sono punti, no? Mi sembra che abbiamo fatto punti! Mi sembra che abbiamo fatto punti! X special per lei che mi piace! Quindi! Torre di lavandonia che da zero! Torre di lavandonia al 100%! 20 punti! Grazie! In cascina! Dai a hit! Vai! Giovannino vai! A noi due! Giovannino! Il sole! Che palle! Era palloso! Perché devono mettere il sole? Metti l'acqua! Piazza! 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 Bene! Il maledetto! Il maledetto Siki! Bene! Bene! Questo fatto! Sai hanno punti! Ma li segna la fine! Allora! Team Rocket Tied Out fatto! Team Rocket al 100% fatto! Tadà! Politoad! Guarda che io non gli racconto niente a Politoad eh ragazzi! E uno! E due! E tre! Quattro! Cinque! ! Punti! Punti intanto! Punti! 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 Dami qua! Dieci puntozzi! Dieci puntozzi in caccina! buco buco let's go mettiamo da Satu va bene espion non lo conosco va bene Nido King clean no madonnina e vai Nalo no no madonna no mi ha chintato gliela trovo cioè secondo me uscire è fondamentale è stato proprio un bezzo gesso quindi dovrebbe si avvia qua è iperraggio devi fare anche conversion che mi diventa normal no madonna c'è di una mia pace bello che mi hai iperbimbo uccidere no bau bravo bau che sei uscito bravo bau bravo bau dammi i punti dammi i punti serviva la bau che c'è di bollè oltia bollè io prenderei questa stai mi allotto tanto non impariamo se la guardo e semmai la cambio oh porco cane guardateci blizzard o slash? blizzard proprio da oh freeze oh l'abbiamo letta? l'abbiamo letta? l'abbiamo letta punti 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 porta a casa porta a casa Stripoli Stripolone Stripoli porta a casa i punti intanto stasera senza cena assolutamente ovvio mi vedete? ci sto? ah allora sei venuta eh papà chissà papà chissà papà aspetta amore ma hai cliccato cose sbagliate no mi hai resettato l'eran Giulia Giulia mi hai resettato l'eran mi hai fatto perdere guarda l'altro vado deve essere l'eran 236 e 4635 punti ah ok questa abbiamo già giocata ah mi hai resettato questa ok ho capito cosa l'ha fatto Giulia deve essere la 237 video cannone qua o mettiamo anche la pioggia è molto là adesso è diventato me potrei fare camuflazione o diventare no bravo tu fai la piozza tu 20 punti clicca clicca bello bind bella mossa vai clicca 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 wow c'è la sterp anche lui c'è la edge da merda io non scauto niente dritti per dritti dritto fino o meno il ritorno vi aggastro è un ottimo mossa sto scambiando max con squirt sto proprio un imbecile vai caimine ma no mi ha abbassato l'attacco di tanto è sempre uno debole debole adesso no non è debole debole porco che è sì vabbè stab megahorn ma scusami mi avevi fatto scratch ma rifammi una mossa il genere no dai please please cioè non fare non porre resistenza ma come mega kick porco bravo meno della metà di giallo continuo così ok timing easy punti punti così 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 secco 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 così lo chiameremo secco vai secco doggia secco doggia secco secco dai forza un po' di impegno non è qui tanto non faccio danni cacchio meno oh mai qual è la fatica io fai comunque dinamipunch confondo e adesso è l'api da bugo blask un po' di vabbè un altro blask non lo fa fuori no ma ma è l'abbono è l'abbono irp pack o dinamica in centro dei prego non è molto tanto lui non ha massimo preso allora ho sbagliato diciamo che è una cosa che non dovrà succedere e basta ma come è il tuo capo? ma come è messo? che è giusto che è confuso ma puzzalo ma perchè missi sempre? è terribile è un progetto venga chicca ecco migliori che è morta sto per morire c'è tre want attenzione come funziona con protect? io faccio protect e poi lui ha fatto i want e qui si esce e qui si esce protect ah ops ops no hai vissato? hai mica vissato? 100% punti vita qua ok ok il primo passo ok facilissimo 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 questo come lo chiamiamo lo dobbiamo chiamare è tipo è un pokemon a tempo è un 50 50 diciamo fausto fausto bello fausto dai dai spingiamo spingiamo che voglio i punti voglio questi cinque punti brivido che ci sono e non ci sono venghia fa ma il film lo stesso ooo zolina c'è una cura per cosa stai vacca boia frittalo sciottalo uuuu punti boys andiamo 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 merip il primo è andato gatto è andato zuolot oh oh cazzo oh quanti danni mi hai fatto oh mamma mamma cambiamo ossa please ecco cazzo per capire due cose un bel lanciafiamme stai buono stai buono stai buono buono polai che qui la situazione stai buono zitto gufo è valido è valido fausto è valido mi ha detto che vai ma come mai ooo nooo pezzalo aaaaaaah pezzalo vivo aaaaaaah che gli faccio lo congelo gufi maledetti Gubi, maledetti, Gubi Il Conte o il Gupo? Non ho lanciato piano Abbassagli le stats Gli devi cambiare vita E di certo Pound non gli farà danno Io devo andare a crunch fino alla fine Cambiala Non dovrebbe shot time Vai, go, finì me Dai, 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 uscire da là Uscire da là, uscire da là 20 punti, dai, 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 dai Che ci siamo Facciamo le cose per bene Ma quando è che sono diventato così saggio, eh, ragazzi Compa Mi sono accorto di avere il nuovo automatico da te Chissà quanti messi Sono contento di aver ti supportato a me Ti saluta, ti voglio bene, grazie Compa Compa E che cazzo E che cazzo Questo si evolve è buono Guarda, c'è anche Dave Peck Che è super efficace Ma no, ma non paralizzarmi subito Oh Il Pupiter Il Pupiter Come va? Punti, vai Dai, 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 dai Dobbiamo prendere questo ritmo Questo ritmo È lui È lui È suo È suo Unpero Eccolo La roba è bella Grazie Non va poco Guarda, si fa catturare subito Da quando clicco, comunque, per la cattura Catturo sempre Il Cattus È diventato di algo Lol Edz 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 Anche livello 19 Ottimo Livello 19 Ma soprattutto Punti 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 È perché partirà la cosa di La sponsorizzazione Che esce in impact Domani So che mi hanno attivato già il comando Questo è buono Sì Non ho messo a enfasi Ottimista 15% Tanto è un bel critico Sul biambullo Facciamo il 20 Buono Hyperfang Fa schifo Ma è meglio di niente No? Via Vitappa Cioè Doomedesire magari Ok 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 Ah Sismic Tossan È vero che lui ne impara due Via Hyperfang Forse È stato bello Via T Nella mia Nella È stato bello Via T Nel mio team Ai via Venga Basta Qui Alla Alla... Alla... Che è di coltell'idea un clon. E' vero? Beh, siamo finito. Sono uno debole come primo, mi devo provare. Potrei pensare di fare pozione invece che fuori. Allora, la revenge non c'è niente, ragazzi. Cioè, mi fa sempre la metà del danno, non è che non mi fa. Nemmeno lo stesso. Madonna, gli faccio un gaz, però. E che è? Ma c'è un indice. Allora, curi per lo status, non ne ho. Ho la pozione, fammola. Addio, addio, amici, addio. Eh, che vuoi che faccia. Eliminato da uno smoochum. Allora, a quando. Trick! 1. C'è un altro lapso. Io ero una notizia. C'è un altro lapso. Grazie.